Mister Ferretti, la più grande gioia da quando sei allenatore? Sì, sì, questa è la più grande perché siamo partiti con un handicap micidiale, sette partite un punto, poi dieci partite quattro punti. Abbiamo recuperato, se è stata facendo, abbiamo fatto un grande miracolo. A chi va il merito di questa salvezza? A tutti quanti, ai ragazzi in primis, poi io, Boccaccio, il presidente che ci ha sempre creduto. Una vittoria importantissima che il Cervetti ha ottenuto come se fosse una promozione, per come è la partita, per come si erano messe le cose all'inizio del campionato. Sì, come già ho detto, eravamo partiti male, quando mi hanno chiamato a me avevamo zero punti. Come ripeto, è stata un'impresa micidiale, i ragazzi non so come ringraziarli. A chi dedichi questa vittoria? Questa vittoria la dedico a tutti quanti, però in primis a me e Chico Boccaccio, il presidente che ci ha creduto, e la mia compagna che mi sta sopportando tutto questo periodo, sempre con il suo nervosismo e sempre a pensare alla partita. Oggi era la prima tifosa? Vabbè, come sempre, ha visto tutte le partite e sono contento.